...tanta pazienza per ottenere grandi abilità e per avere il massimo controllo sul proprio corpo fisico e mentale. E adesso appunto abbiamo un'esibizione e questo è il primo evento. Vedremo la grande sensibilità che si può ottenere attraverso un costante esercizio di stretching eseguito da Dino, mentre fanno la tornrice anche Francesco, Walter, Paco, Alessandro, Giuseppe e Nino Umberto con una forma a mani nude di pasta. Quindi se siamo pronti si apre in palco sferico e rivediamo il nostro spettacolo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Adesso il secondo evento, il Tai Chi è la parte morbida del Kung Fu, fa parte di un equilibrio mentale e di una grande serenità interiore. In questo evento vedremo tre stili, diversi contemporaneamente, Adelaide e Alessandra saranno impegnati in una forma di spada stile Yati, Pietro sarà impegnato in una forma di stile Shami e Umberto sarà impegnato in una forma di stile Vodani. Piazza E' Piazza 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 Non c'è l'anima, non c'è l'anima, non c'è l'anima. Non c'è l'anima, non c'è l'anima. Non c'è l'anima, non c'è l'anima, non c'è l'anima. Non c'è l'anima, non c'è l'anima. 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 Non c'è l'anima, non c'è l'anima. Non c'è l'anima, non c'è l'anima. Non c'è l'anima, non c'è l'anima. Non c'è l'anima. Adesso il terzo evento è il Kung Fu Ski La Scigna e in questo evento è espresso in un combattimento tra Francesco e Alessandro. Alessandro 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 Alessandro